48 comuni di tutto l'arco alpino che hanno lavorato per valorizzare il proprio territorio partendo dall'ambiente e dalla storia locale. Questo è stato DINALP, il progetto di cooperazione finanziato dall'Unione Europea con il programma Interreg Spazio Alpino. Fra i vari interventi realizzati a Telve c'è Riva Italiani, il diario di un anno di guerra vissuto in paese. A 176 volte Europa, vota per Riva Italiani.